Mushu, in mio mente, non può essere recreatata, è un carattere perfetto e una perfetta performance. Scene che ho visto e soprattutto provare a raccontarvi un po' quello che è il dietro le quinte del mondo della promozione filmica. Devo partire subito con i grandi ringraziamenti che vanno a CineAvatar, che è il sito con cui collaboro, un sito di amici che mi ha dato questa grandissima possibilità. Abbiamo visto tre scene molto brevi, solitamente quando la Disney fa questo tipo di incontri con i registi vengono presentati anche dei dietro le quinte molto interessanti. purtroppo questa volta abbiamo avuto solamente dei footage, ma la regista ci ha descritto quello che più o meno è il progetto, l'intenzione del film. Le immagini che abbiamo visto tra l'altro non sono neanche complete, la musica era provvisoria e persino il colore non era ancora finito. Infatti soprattutto nella prima scena c'era bisogno ancora di un po' di color correction perché i neri non erano totalmente puliti e quindi veramente si faceva un po' fatica a distinguere i dettagli. La prima scena che hanno scelto di farci vedere è una di quelle scene molto di contesto ma anche molto intime, che ha subito staccato con il resto degli live action Disney. È una cosa molto interessante perché ha comunicato a noi giornalisti che questo progetto di Mulan è molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente degli adattamenti dei cartoni animati in live action. Infatti è una sequenza anche abbastanza lunga tra Mulan e il padre. Il padre sta per andare in guerra, lo vediamo che estrae una spada, è tremante, è vecchio. Però è gestito tutto questo dialogo sugli sguardi. Vediamo Mulan illuminata solamente dalla luce di una piccola candela che è posta sul tavolo, che guarda il padre fragile, capisce che lo sta per perdere e si commuove. È un momento di grande intimità che non siamo molto abituati a vedere in questo tipo di prodotti. La regista dedica poi molto tempo a farci capire come il padre affila questa spada e ogni movimento dà proprio un significato anche al percorso psichico del personaggio. Mentre Mulan ovviamente inizia il dialogo che noi conosciamo ovviamente, no? Se io fossi stato un ragazzo tu non saresti dovuto andare in guerra. Il padre le risponde che non avrebbe cambiato nulla della sua vita. Poi alla fine vediamo Mulan prendere la spada e vediamo che si sa di estreggiare già bene. La seconda scena che ci ha fatto vedere, Niki Karo, è quella dell'allenamento, il famoso allenamento amatissimo nella versione a cartone animato. Questa volta molto più duro, molto più tradizionale. Appunto vediamo Mulan che si allena con gli altri, ha una grande capacità di destreggiarsi che è abbastanza insolita. Soprattutto perché quando ci è stato il momento delle interviste, la regista ha tenuto a precisare che, e nonostante il riferimento, tutti noi pensiamo alla tigre e al dragone, in realtà questo Mulan è molto più grounded, molto più attaccato alla fisica normale. Quindi questo si tramuta da un lato in un'essenza dei personaggi molto meno cartunesca e molto più concreta, terrena. Infatti dico che sembra un film vero, cioè con dietro un'idea di persone, di personaggi, anche di concretezza appunto degli ambienti. Però dall'altro lato, non lo so, c'è sempre un po' il lato magico. Probabilmente, questo è molto interessante nell'ambito del marketing, quello che stanno cercando di fare è anche un riposizionamento verso una sensibilità molto americana, no? Rispetto alla sensibilità cinese del Wuxi e Pan. Ci tiene la regista anche a sottolineare, e in questo posso concordare perché da quello che abbiamo visto funziona parecchio, che questo Mulan probabilmente avrà dei grandi passaggi dall'intimo all'epico. La terza scena che mi è piaciuta veramente tanto è la del combattimento, siamo a metà film più o meno, vediamo gli invasori che stanno appunto arrivando in questa vallata bellissima con i monti che appunto la sovrastano. Probabilmente questa sarà una premessa rispetto alla famosa scena della valanga che la regista appunto ha deciso di tenere. La difesa che appunto è ferma con gli archi che si tendono e le frecce che iniziano a solcare il cielo. E mentre gli invasori stanno correndo vediamo una piccola falange di questo gruppo di cavalleria che si distacca. Allora Mulan parte all'inseguimento molto chiaro in ogni sua parte. Gli invasori si girano a cavallo, quindi iniziano a prendere l'arco, a tendere due frecce contemporaneamente. Mulan riesce a evitare per poco due frecce appunto, però vede che man mano tutti i suoi compagni vengono colpiti e muoiono. Appunto questo già è quasi insolito da vedere in questo tipo di prodotti Disney. Mulan allora inizia a rispondere in un vero e proprio combattimento con arco e frecce. Veramente molto dinamico, il montaggio è ottimo fino a che non è costretta ad esistere e a continuare da sola questo inseguimento verso l'orizzonte. Noi però veramente sono dei footage che fanno veramente capire molto bene quello che vuole essere il tono del film. Un grande distacco rispetto agli altri prodotti e quindi è importante che questo venga fatto vedere. La Disney è una delle poche case che fa questo tipo appunto di incontri stampa. Ha iniziato diciamo il marketing italiano con questo perché eravamo veramente in molti e quindi si è iniziato a fare un passaparola notevole. C'è stata anche la possibilità appunto di scambiare delle battute e insolito perché come sapete c'erano state grandi polemiche su Mulan per alcune dichiarazioni appunto dell'attrice non troppo felici sulla situazione di Hong Kong. Però appunto non si sono sottratti alle domande dei giornalisti. Un regista in particolare molto interessante oltre alla domanda su Mushu è stato il fatto che il film era abbastanza rischioso dal punto di vista culturale proprio perché l'America si impadronisce di una cultura che non è propria però appunto la regista ha fatto numerose ricerche per poter avvicinarsi di più e essere molto fedele. Perché? Perché Mulan non è solamente un film d'animazione ma è anche una ballata molto antica che appartiene alla tradizione cinese e quindi appunto hanno cercato il più possibile di essere fedeli. Allora perché non c'è Mushu? Sentiamolo dalla sua viva voce. The beloved animated classic stands on its own. I love it and Mushu to my mind can't be recreated. It's a perfect character and a perfect performance and the most respectful thing I could do in the live action was to let it be perfect in the animation and bring the story in the most real and intimate and epic way. I do appreciate what is great about Mushu and that is the humour and the levity and this footage doesn't really give much of an indication of that but we found our humour in this live action version in Mulan's real relationships with the guys in her team and also with the kind of gentle situational comedy that comes from being a woman disguised in a man's world. E con questo è tutto spero che questo piccolo dietro al quinto vi sia piaciuto se ne volete altri fatemelo sapere noi ci vediamo sempre qui su Cineapreso. Ciao a tutti!